Ciao. Ciao. Grazie per essere venuta. Allora? Voglio riparare gli errori che ho fatto. Tuo figlio ha vissuto la sua intera esistenza senza di te. Quando ha compiuto il suo primo anno di vita tu non c'eri. E neanche quando ne ha fatti due, tre, quattro. Sai contare, Adriano, no? Sono passati dieci anni. È un bambino senza padre, tuo figlio. Aiutami a conoscerli. Per quanto mi riguarda tu sei morto. Adesso si tratta solo di capire quello che è giusto per lui. E quindi? E quindi farò quello che è giusto fare per lui. E tu non mi cercare, perché ti chiamo io. Ma già te ne dai. Ho un lavoro con cui vado avanti senza di te da dieci anni. Dovrò tenermelo ben stretto, no? Ciao, Adriano. Ciao. 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 Grazie a tutti.